Per dovere di cronaca, Google non definisce espressamente questa iniziativa di formazione professionale e qualificata, fortemente orientata all'inserimento lavorativo nelle professioni digitali, come un'università. Tuttavia, il Senior Vice President of Global Affairs di Google, Kent Walker, ci dice a Google consideriamo i nostri nuovi Career Certificates come equivalenti di una laurea di 4 anni per i medesimi ruoli. Eduway the Podcast, il podcast che parla di educazione, con professionalità e leggerezza, con Andrea Dasti e Stefano Leppe. Buongiorno caro Stefano. Buongiorno Andrea, eccoci qua dopo aver smaltito le fatiche dell'Animation Week. Dopo, allora, se sette o sei anni fa ti avessero proposto un corso di laurea che si sviluppava in sei mesi e costava solo poche centinaia di dollari, cosa avresti risposto? Avrei risposto, eccomi. Sarebbe stata la tua proposta. Caro Stefano, oggi vogliamo analizzare l'università di Google. Proprio così perché Big G, a fine agosto, ospitato dalla piattaforma Coursera, ha lanciato dei corsi basati sui Google Career Certificates, destinati a coloro che intendono laurearsi nelle professioni più richieste oggi nel mondo digitali. Costi, contenuti, durata ridotta, circa sei mesi, e non è necessaria un'esperienza progressa. Allora, non siamo ovviamente dipendenti di Google, quindi non siamo capi a fare... Sembrava un po' spot pubblicitario. Sì, esatto, sembrava un po' spot pubblicitario. Era solo proprio in maniera didascalica per descrivere... Esatto, adesso puntualizzeremo di cosa si tratta di questa proposta e poi cercheremo di fare qualche considerazione per capire i pro e i contro di questa proposta e che possibili incidenze ha sul resto del mondo. Allora, se mi permetti, voglio essere un attimo più didascalico adesso. Prego. Sentiti libero di interno per me quando vuoi comunque. Va bene. Allora, la proposta di Google si articola in questo modo. Sono quattro corsi per quattro diverse competenze, ovvero loro formano degli analisti dati, dei project manager, degli UX designer, che sono quelli che rendono la tecnologia più facile, più accessibile e l'unico corso che è attivo, il support IT specialist. E infatti, dove hai detto, sono quattro corsi, saranno, giusto? Saranno quattro corsi, esatto. Uno è attivo, tre devono attivarli. Sostanzialmente Google cosa fa? Va a vedere nel mondo del lavoro, dentro la sua azienda e al di fuori, capisce quali competenze servono e su queste competenze costruiscono dei corsi di formazione, che durano appunto sei mesi, eccetera, eccetera. Hai parlato di mondo del lavoro, avrei già qualche considerazione da fare, ma prima, dici un attimo, quali sono i punti di partenza? Aspetta un attimino, caro Stefano. Ti dicevo, mondo del lavoro, perché Google non si limita a formare queste persone, ma le vai a mettere anche nel mondo del lavoro, all'interno della propria organizzazione, oppure nelle aziende partner. Ti dico subito che la proposta è anche molto allettante dal punto di vista economico, perché si calcola che lo stipendio annuo, lordo, medio, appunto, di queste professioni si aggira intorno a 55 mila dollari. Grazie per questi elementi. Con picchi 93 mila dollari. Tutti molto interessanti, fanno anche un po' di invidia, ma ti invitavo prima, punti di partenza, cioè le considerazioni da cui sono partiti. Il buon Kent Walker, soprannominato da noi Skywalker, il senior vice president of global affairs di Google, che probabilmente se sentisse questo podcast ce lo farebbe chiudere subito. E credo che con tutti questi titoli che hai detto ha pieni poteri per farlo. Sì, potrebbe mandarsi anche su Marte proprio in due giorni. Allora, lui diceva, partiamo da due problemi. Uno è che in America alcune persone fanno molta fatica a laurearsi. Due, cioè il diploma di laurea è fuori portata. Due, non è detto che sia fondamentale possedere un diploma di laurea per raggiungere la sicurezza economica. E questo io te siamo la testimonianza. Chiara, hai ragione. E infatti, secondo me, sono due considerazioni pienamente condivisibili queste. Considerazioni pienamente condivisibili, ed ora adesso abbiamo analizzato la proposta, andiamo a qualche considerazione, caro Stefano. Mi stavo già linkando prima, in maniera forse troppo anticipatoria, col discorso mondo del lavoro. Di pancia, mi vengono subito due cose da dire. Allora, la prima, che sicuramente è geniale, nel senso la puntualità con cui fanno questa proposta, nel senso che loro forniscono le competenze necessarie per il mondo del lavoro oggi. Sì, è geniale, ma acqua calda, voglio dire. Sì, nel senso che matchano domanda e offerta. In che senso acqua calda? No, acqua calda nel senso che teoricamente tutte le università dovrebbero fare, e teoricamente sono anche così, no? Non lo stai dicendo veramente, no? No, lo sto dicendo... No, ok, su questo ci torno più tardi. Ok. No, rigato sempre al mondo del lavoro, mi viene da dire che il rischio grande è di un fordismo 3.0. Ok. Per usare uno slogan da compagno, un taylorismo digitale. Mamma mia. Allora... Le mani ti ascolto. Mi ascolti, però, facciamo non un passo, un balzo all'indietro. Sì. 1911. E là là. C'è risato? Un giovanissimo Stefano Leper che era già educatore ai tempi. Ok, non c'ero, però i libri di storia ci aiutano per questo. Friedrich Wieslow Taylor propone un'organizzazione scientifica del lavoro. Sì. Che prevede la scomposizione del lavoro umano, in tre fasi, no? Ok. Parcellizzazione delle mansioni, cooperazione tra le varie parti scomposte e il loro controllo. Ok. E qui ti voglio, no? Perché mi sembra che la proposta di Google si inserisca in questo solco e il grosso rischio è proprio questo. Ok. Un controllo parecchio pervasivo, cioè una ricerca esasperata di efficacia ed efficienza ad ogni costo. Sì, questo ti posso dare ragione, caro Stefano. Un'altra considerazione che mi viene in mente è appunto quella della durata. Si è parlato molto di durata, l'abbiamo trovato in molti articoli, molti podcast e video che abbiamo visto e alcuni dicono che la durata di sei mesi ha troppo poco, però le università italiane durano cinque anni, troppo tanto. Allora, il discorso è, per uscire da questi discorsi da bar, bisogna capire, nel senso che la durata dipende se per un IT specialist, se per formare un IT specialist ti vogliono sei mesi, allora la durata è la durata giusta. Ad esempio, mi viene in mente, per le professioni umanistiche, come potrebbero essere le nostre, sei mesi è un tempo molto limitato. Ma certamente questo può aiutare le università, no? Il discorso che facevamo prima fuori onda. Sì, era su quello che mi hai lasciato un attimo spiazzato, no? Acqua calda. Secondo me è un aspetto positivo di questa proposta che rompe un po' gli schemi, è la scossa che può dare all'ambito accademico, un po' in generale, in quanto a riorganizzazione delle tempistiche, delle modalità e un po' una riflessione sull'attualità e la competitività delle proposte che forniscono. Sì, ti metto in guardia su una cosa Stefano, perché se domani mattina questi aziendone Google, ma anche Amazon, penso Facebook, eccetera, dovessero svegliarsi e tutti dovrebbero fare, dovessero, dovessero, porca miseria, dovessero fare il loro programma certificates, allora diventerebbe un monopolio anche nella formazione. Da due punti di vista, dal punto di vista del, diciamo così, lavorativo, perché loro dicono, oh, noi assumiamo solo persone che fanno il certificates con noi e quindi sostanzialmente chi vuole lavorare in quelle aziende deve per forza passare per quel canale, ma potenzialmente hanno in mano anche la formazione delle persone, quindi più personale, umana, che si interfacciano nel mondo universitario ed è l'età appunto dove si forma la persona, cioè 9, 20, 21 anni. Sì, poi allargando un attimo il discorso in generale alle corporate university, c'è un po' da interrogarsi anche, no, su quali sono. Le corporate university, appunto, sono quelle università, ad esempio, che nascono all'interno dell'azienda. In Italia abbiamo, ad esempio, Leni. Sì, che ha una sua corporate university. E no, c'è un pochino da interrogarsi perché non credo sia un caso che in Italia c'è Galetano Manfredi che presiede il dicastero di università e ricerca. Esatto. Due aspetti che non vengono sganciati. No, a questo punto di vista ci cito un articolo trovato sul Sole 24 ore dell'1 ottobre 2017. Mi dai un secondo? Ok, qua. E loro dicono il termine università è ambizioso perché, parafraso, non è una istituzione che produce solo conoscenza. Cioè non è che, scusa ho sbagliato, non è che trasmette solo concetti, ma produce anche conoscenza. Cioè si immagina qualcosa che non c'è ancora. In realtà poi loro dicono, l'articolo lo trovate su internet, che il problema delle corporate university, cioè il rischio delle corporate university è quello di formare dei soldatini e di riprodurre solo ciò che è noto e quindi non guardare ciò che va oltre. Appunto quello che dicevi è un po' il discorso che tocca un po' il discorso che tu hai fatto inizialmente sul terrorismo. Sono completamente d'accordo ed esterefatto di quanta competenza e professionalità in un solo uomo e allora ti incalzo, perché mi citi solo 24 ore, e ti pongo un quesito. Sì. Qual è, secondo te, l'obiettivo principe dell'istituzione scolastica? Allora, mi rifaccio al buon manzi educare a pensare, quindi formare un pensiero critico nelle persone. Ti trovo molto preparato. Dieci punti a Grifondor. Ecco, attenzione perché questa proposta sicuramente... Sono da dove andare, eh? Questa proposta lascia un po' desiderare da questo punto di vista. Questo è vero. Sia sulla formazione del pensiero critico, tanto quanto per quanto riguarda la formazione di un pensiero divergente, che è un po' il discorso del monopolio che facevi prima. Sì. Quindi, ecco, non è che si... Allora, sul pensiero divergente non ne sono così convinto, Stefano, perché dicevamo che il pensiero divergente nella pillola dell'autoironia appunto ha la capacità di pensare vari problemi, varie soluzioni per un problema unico. Quindi questo può darsi che... Ok, se io ti prendo per sei mesi e ti inculco in testa tutte le informazioni che voglio che tu conosca, in che modo stimola il tuo pensiero divergente? Eh, sicuramente, però, cito, non è che cito, però, il support IT specialist, che dicevamo che è l'unica professione che è già, l'unico corso già attivo, leggo la descrizione, deve risoluzione ai problemi della rete, ai sistemi operativi, all'amministrazione, cioè deve risolvere i problemi, quindi credo che il pensiero divergente si stimoli, no? Sì, è un pensiero divergente indotto, però, questo, cioè, nel senso, l'obiettivo della scuola non è inculcare il pensiero divergente che io voglio che un alunno abbia, ma lasciarlo libero di avere un pensiero divergente e critico. Ok, diciamo che conveniamo tutte e due sul fatto che la formazione di un pensiero critico, ovvero educare le persone a pensare con la propria testa, ecco, questo è un aspetto che sicuramente viene meno. Sì, sicuramente, no, è appunto nel senso, è un rischio grande, non è che se tante volte anche la scuola, la proposta un po' più tradizionale e classica fa fatica, da questo punto di vista, incontra non poche barriere, allora troviamo delle soluzioni compresse o delle pillole, ecco. Sì, perché tu dici, abbiamo trovato alcuni articoli, appunto, che dicevano il fatto che, sì, è vero, la scuola dovrebbe formare un pensiero critico, però, nell'esperienza delle persone che scrivevano quell'articolo dicevano, vabbè, però a me non è servita tanto la scuola quanto piuttosto viaggiare all'estero, eccetera, eccetera. Bravissimo, lì c'è stata una mancanza da parte della scuola. Esatto, permettimi Stefano di andare un attimino oltre anche su questo argomento e appunto citare, ad esempio, no, rimango ancora su questo argomento, dicevamo, sulle professioni umanistiche, ad esempio, è impossibile pensare a un corso del genere, perché collegandosi alla prima puntata di questo podcast, dicevamo che per educare, ad esempio, si educa più con ciò che si è, Sant'Ignazio d'Antiochia. Esatto, esatto. E per educare con ciò che si è, appunto, abbiamo bisogno di percorsi universitari o scolastici che non passino solo da informazioni, ma che riescono anche a sviluppare una personalità, un'umanità. Però, caro Stefano, voglio evidenziare anche un aspetto positivo, secondo me, di questo modo di fare istruzione, dei Google Certificates. Pensiamo, ad esempio, questo modello applicato in paesi in via di sviluppo, dove, ad esempio, in mente il caso dell'Uganda, dove le distanze sono molto ampie, quindi per arrivare all'università è molto complicato spostarsi. Molte famiglie, molte famiglie, vuol dire la maggior parte delle famiglie non possono permettersi di mandare i propri figli all'università, quindi cominciano a lavorare molto giovani e questi percorsi poi durano anche molto tempo, no, dicevamo, 3, 4, 5 anni. E quindi molte persone non possono permettersi, appunto, di andare all'università. Una risposta del genere potrebbe dare a queste persone, in queste parti del mondo, contestualizzando, una risposta, appunto, con un bassissimo budget, poche centinaia di dollari, poco tempo, e formare delle persone con delle competenze molto alte. Quindi potrebbe essere un volano incredibile per la crescita personale e la crescita anche di un paese, ad esempio. Cosa ne pensi? Guarda, sinceramente era una riflessione che non avevo fatto, può essere un grande punto di forza questo, non sono certo che in fase di pensiero e di elaborazione della proposta sia stato, cioè, così tanto tenuto conto di questo aspetto, però mi piace molto. No, è una proposta adesso pensata solo per l'America, però mi viene da dire che però Matt Brittin, che è il presidente del European Middle East Africa Business Operations di Google, quindi quello che si occupa della parte Europa, Middle East e Africa, dice, lui dice, vogliamo rafforzare il nostro impegno per la ripresa dell'economia, assumendoci, appunto, l'impegno di aiutare milioni di persone e business in Europa, Medio Oriente e Africa a trovare un lavoro, digitalizzarsi e crescere entro il 2021. Caro Andrea, direi che carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia, quindi possiamo salutare i nostri ascoltatori, rimandando alla nostra mail info-edwayimpersasociale.com se volete mandarsi consigli di pillole per il mercoledì oppure consigli di MVP per settimana. Per chi non l'avesse già fatto, recuperatevi l'Animation Week con 5 puntate la settimana scorsa, soprattutto la puntatona mitica di Emil Kohl. Beh, direi che ce ne sono un po' di puntate mitiche. E niente, noi ci risentiamo mercoledì con la pillola e venerdì con l'MVP. Ciao Stefano. Ciao Andrea, un abbraccio virtuale a tutti. Ciao Andrea, un abbraccio virtuale a tutti. Grazie a tutti.